Bene, proviamo a dare un'idea della straordinaria potenza intellettuale, oltre che stilistica ed espressive, della riflessione di Machiavelli intorno al rapporto fra la energia umana da una parte e la fortuna dall'altra. Questo rapporto è la politica. Per fortuna si intende non solo in Machiavelli, ma visto che di quello stiamo parlando si intende in Machiavelli, il fatto che le cose del mondo non capitano in modo tale che gli esseri umani le possano controllare, cioè che il mondo non è a immagine dell'uomo. Il che è un po' diverso dall'idea umanistica, media dell'epoca di Machiavelli che, data la giovane età di molti presenti, collochiamo negli ultimi anni del XV e nei primi del XVI secolo. Età umanistica, pieno umanesimo, ebbene quest'uomo che non è un umanista è molto più che un umanista, si muove invece dalla percezione acuta, drammatica, del fatto che il mondo non è fatto dall'uomo e non è fatto per l'uomo. E che, diciamo così, tutta la cultura di questo mondo, cioè tutto l'artificio, tutta la bellezza, tutta la laboriosità, cioè tutto quello che era concentrato in pratica, diciamo, al 95% in quegli anni, neanche in Italia, in Toscana, tutto ciò è suscettibile di essere spazzato via da un momento all'altro, perché l'attività umana non è sufficiente a tenere sotto controllo la complessità delle cose. O meglio, l'attività umana come viene praticata da coloro che troppo facilmente si definiscono umanisti. Cioè, da quelli che pensano che il mondo forse non sia razionale, ma sia facilmente razionalizzabile. Machiavelli sa che non è così. Lo sa perché, dice, basta guardarsi intorno, basta vedere l'Italia percorsa dagli eserciti dei paesi stranieri, tutti più, molto più forti degli eserciti miserabili degli italiani. Questo fa la differenza. La differenza è fra chi si nutre di chiacchiere anche se splendide, sublime, cioè le corti italiane splendide, però non politiche, non capaci di fare politiche. E invece chi, con grande rozzezza, ma con grande vigore, fa politiche. Questo è l'elemento di urgenza che c'è nella scrittura di Machiavelli. Machiavelli pensa in una fase della sua vita in cui, dopo aver sbagliato tutte le sue mosse politiche, è stato messo da parte dalla restaurata signoria di fatto dei medici, pensa nel momento in cui è evidente la catastrofe della civiltà umanistica italiana. Fortuna è prima di tutto la sventura, la sventura del paese. Machiavelli ha scritto un bel po' di libri importanti. I due principali scritti a cavallati l'uno rispetto all'altro, intorno al 1513, sono i discorsi sopra la prima decada di Tito Livio e il Principe. L'elemento teorico fondativo del discorso che verremo a fare sta nel secondo capitolo del primo libro dei discorsi, dove Machiavelli descrive quella che con un pesante anacronismo potremmo definire la sua filosofia della storia. Era una temperie culturale quella in cui si muoveva Machiavelli, in cui il contatto con la cultura latina e greca era ovvio. Machiavelli pesca all'interno del grande mare della teoria politica classica il pensiero di Polibio, l'anaticus di Polibio e la teoria della circolarità delle forme di governo che era parzialmente presente in Platone, perfezionata in Aristotele e completata in Polibio, nel passaggio ciclico necessario da una forma di governo ad un'altra, ad un'altra ancora, fino a ritornare attraverso vari passaggi alla prima. Questo modo di pensare il rapporto fra il tempo e la politica sembrerebbe un modo perfetto che dà spiegazione di tutto quello che succede dunque, l'esatto contrario della fortuna. Cioè, se davvero il modello della circolarità funzionasse, le cose di questo mondo non sarebbero casuali. Sarebbe prevedibile lo sviluppo dei fatti politici. Sarebbe prevedibile il movimento delle forme politiche l'una dall'altra. La tesi di Machiavelli, invece, è la non prevedibilità di quella circolarità. Nel secondo capitolo del primo libro dei discorsi sotto la prima decada di Tito Livio, per l'appunto, Machiavelli dice, ci sono coloro che dicono che vi è un cerchio nel quale si muovono le repubbliche, questo cerchio è in linea teorica rispondente a verità, ma in linea pratica è un cerchio che non si chiude mai, perché interviene sempre qualche cosa che spezza il cerchio e fa precipitare nella rovina sotto. Per cui, il meccanismo monarchia che degenera in tirannide, tirannide che viene sconfitta dall'aristocrazia, aristocrazia che degenera in oligarchia, oligarchia che viene sconfitta dalla democrazia, democrazia che degenera in licenza, licenza dalla quale si esce attraverso un monarchia, questo meccanismo che di per sé descrive una circolarità perfetta e dunque la prevedibilità scientifica della politica, questo meccanismo è destinato a spezzarsi sempre. A un certo punto una forma politica concreta, non una strazione, una forma concreta concreta non ce la fa a passare attraverso tutte queste vicende, non ce la fa, a un certo punto è troppo debole e viene distrutta da un vicino più potente. Questa è la fortuna, questo è il problema, cioè la imprevedibilità, la necessaria, fatale imprevedibilità della politica. Questo è il problema come viene descritto, in linea teorica, nel secondo capitolo del primo libro, dei discorsi. In contemporanea, anzi interrompendo la già iniziata stesura dei discorsi. In contemporanea, Machiavelli scrive il libro più celebre della storia del pensiero politico mondiale, cioè quello che si chiama De Principatibus, il principe. Questo libro come del resto i discorsi e tutta la produzione di Machiavelli è in italiano e come tale non è bisognoso di essere tradotto per essere interpretato, basta avere un minimo di competenza linguistica. È non solo il libro più famoso, più letto, più commentato, più tradotto, più maledetto della storia culturale europea. Se c'è un libro importante nella sua virkung, nella sua efficacia, è questo. Ma è pure un libro meraviglioso, scritto in una lingua non letteraria, in fiorentino volgare non illustre, una lingua potentissima, densissima, estremamente espressiva, che ha una capacità evocativa, oltre che di profondità intellettuale, assolutamente unica nella storia italiana. Nessuno ha mai scritto di una scrittura funzionale, cioè una scrittura che vuole trasmettere dei concetti. Nessuno ha mai scritto in modo così meraviglioso come Machiavelli, senza voler fare il letterario. Spero che la scuola superiore metta gli studenti in grano di entrare in contatto con questa lingua superiore. Qual è l'assunto fondamentale della politica di Machiavelli? Abbiamo detto che la politica è esposta al caso, alla fortuna. Non c'è modo di sottrarsi alla fortuna. Questo vuol dire che con la fortuna devi fare i conti, non pensare di avere in mano uno strumento logico o pratico che ti esoneri dal fare i conti col caso. Voi direte perché questa enfasi su questo punto? Ma perché tutto il nostro modo invece, moderno, di pensare alla politica è per l'appunto centrato sull'idea che la politica ha come unico obiettivo quello di esonerci dal caso. Cioè la politica è un sistema di tecniche che servono come assicurazione sulla vita e poi sulla qualità della vita e tutto quello che vuole. Bene, Machiavelli è per l'appunto un teorico del fatto che si deve amare non la vita comoda ma la vita scomoda. Ma neanche si deve amare, che non è possibile avere la vita comoda. Meglio ancora, è possibile avere la vita comoda pagando un prezzo terribile che è il prezzo della vergogna e della irrilevanza. Cioè si può passare la vita, sì sì, senza correre rischi. O pensando soltanto ad accumulare ricchezze, certo si può, quasi tutti gli uomini lo fanno, però quegli uomini che fanno così e quegli stati che si comportano così non sono begli nemmeno di essere ricordati, non lasciano traccia di sé nella storia che è l'unico obiettivo, l'unica molla esistenziale che fa sì che gli uomini stiano in questo mondo in modo degno. Certo si può stare in questo mondo in modo indegno, cercare la sicurezza e la ricchezza. Si può. Però non è politica. Politica è stare in questo mondo in modo degno affrontando la fortuna, cioè affrontando e facendo i conti col fatto che il mondo non è fatto per l'uomo e pagando il prezzo di ciò che vuol dire essere più pronti, come vedremo, ad aggredire la fortuna che non a difendersi dalla fortuna e sapere che prima o poi, per quanto tu sia bravo, competente, astuto, agile, prima o poi capiterà qualcosa alla quale non avevi pensato e morirà. E non solo, ma si distruggerà la tua costruzione. questo è inevitabile. Però, ecco, se sei stato un politico sul serio, qualcuno, i vostri, si ricorderà di te. Che è l'unica cosa che esiste per essere qualche cosa di diverso da miserabili mortali privi di ogni significato. Non è molto cristiano, non gli importa niente della salvezza dell'anima. Non c'è niente da salvare. C'è soltanto da scegliere fra essere irrilevanti o tentare di dare una forma provvisoria al mondo. E questo è davvero invece, ancora, grandiosamente, umanista. Gli uomini, dunque, quelli che vogliono fare politica, quelli che non la vogliono fare non ci interessano, desiderano acquistare. Acquistare vuol dire ingrandire il proprio potere. Stiamo parlando di capi di Stato. Desiderano ingrandire il proprio Stato. La dinamica della politica è o non ci entri proprio, cerchi di startene fuori, di vivere come un maiale del greggio di Epiculo, come diceva di sé Orazio, e se invece ci entri, ci sono delle dinamiche obbligate, la principale delle quali è il potere c'è soltanto nelle misure in cui deve essere aumentato. Non può non essere aumentato. Questa dinamica fatale. Gli uomini naturalmente desiderano acquistare. E sempre quando gli uomini lo fanno che possono, saranno laudati o non piasinati. Ma quando non possono e vogliono farlo in ogni modo, qui è l'errore e il piasso. Dunque, questa è la logica intrinseca, la morale intrinseca, la politica. Il potere deve essere aumentato, non può rimanere fermo. E dunque voi capite quanto sia lontano Machiavelli, proprio Machiavelli che ha inventato praticamente la parola, quanto sia lontano Machiavelli dal concetto di Stato. Stato per definizione vuol dire situazione stabile. Qui ha appena finito di dire che lo Stato è intrinsecamente instabile, perché è intrinsecamente mosso, dunque il contrario di stabile, verso la continua acquisizione del potere. E questa è la logica intrinseca che ha in sé il proprio premio e la propria pena. Quando entrano in questa logica coloro che se lo possono permettere, allora, cioè coloro che sono, che hanno successo, allora questi hanno la lode o il non-biasmo, almeno il non-biasmo, cioè il successo paga sempre. Quando entrano nella logica della politica coloro che non se lo possono permettere, che non sanno far politica, allora qui è l'errore e il biasico. Si sbagliano, perdono e verranno obbiasinati. La politica non è il regno dei buoni sentimenti. Non si dice bravo a un perdente, si dice bravo solo a chi vince. Detto questo, il principe, come libriccino, è un'analisi tipologica delle forme politiche. Come sono fatte e quali sono le forme politiche? Si parla di stati o repubbliche ereditarie, meglio dire stati in questo caso, e forme politiche nuove, cioè che non sono pervenute per eredità, vengono formate. Quelle nuove, secondo il tipico metodo dicotonico del ragionamento di Machiavelli, quelle nuove poi possono essere acquisite con la virtù o con la fortuna. Inoltre possono essere acquisite attraverso i delitti e poi possono essere acquisiti in un'altra modo ancora, possono essere acquisiti questi principati nuovi, che sono quelli di cui lui si occupa, attraverso il consenso e questi sono i principati civili e il consenso può essere a sua volta il consenso dei nobili oppure il consenso del popolo. Qual è la differenza tra un principato nuovo acquisito attraverso la fortuna e un principato nuovo acquisito attraverso la virtù? Tanto uno è il fatto che non sono civili, cioè questo principe nuovo non ha cercato il consenso di nessuno, è un self-made man che fa esattamente, che agisce sostanzialmente da solo. Qual è la differenza tra chi agisce da solo attraverso la virtù e chi agisce da solo attraverso la fortuna? Questa è esplicitata nel sesto capitolo, la differenza è questa, che chi agisce attraverso la virtù è sostanzialmente uno che cerca di calcolare in anticipo, la dimensione del tempo è fondamentale, è uno che cerca di calcolare in anticipo ciò di cui avrà bisogno in futuro, cioè è un continuo ragionamento fondato su se allora, se voglio questo allora devo prepararmi facendo quest'altro. E dunque è questo principe nuovo non civile che si prende in uno stato nuovo attraverso la virtù di cui c'è un fugace esempio in Francesco Sforza, è qualcuno che prima mette le fondamenta, prima come sembrerebbe normale, si prepara lungamente, prima mette le fondamenta del proprio potere attraverso una durissima opera di preparazione e poi con estrema facilità, appena dopo che ha messo le fondamenta, con estrema facilità prende il potere. Ma prima di prendere il potere deve passare attraverso una lunghissima fase preparatoria, tutta pensata, approntata da lui. Poco divertente e dunque ha questo tipo di principe nuovo ma chiaverli da poco spazio. Da molto spazio al principato civile, cioè al principe che cerca il consenso del popolo o dei grandi, dei noi. Mentre invece l'altro modo, quello di prendere il potere grazie alla fortuna, trova una trattazione celeberrima nel settimo capitolo del principe, cioè quello nel quale si descrive la vicenda, la breve vicenda del Duca Valentino, cioè di Cesare Gorge, il figlio naturale del Papa Alessandro VI Gorge, che percorre con una meteora la politica italiana negli anni finali del Quattrocento e poi viene sconfitto e messo fuori gioco da un altro grande Papa che succede al padre di lui, cioè Giulio II. E questo non è come volgarmente si è ritenuto il modello del principe, non è questo. Per Machiavelli un principe non si deve, non può comportarsi così. Cesare Gorge, Duca Valentino, viene lungamente analizzato anche con simpatia, anche con grande partecipazione esistenziale da parte di Machiavelli che tra l'altro lo ha conosciuto personalmente, viene lungamente analizzato proprio perché si dimostri attraverso la vicenda di quest'uomo che la fortuna è omnipotente e che nemmeno il migliore degli avventurieri, Cesare Gorge, nemmeno il più intelligente, il più acuto degli avventurieri, se resta un avventurieri, forverà qualche cosa di stato. Il modello di Machiavelli è un principe nuovo civile, cioè uno che costruisce il consenso. Il Valentino il consenso lo cercava soltanto a botte di spettacolarità sanguinaria. Ma adesso andiamo un po' più all'interno. E dunque che cosa fa un uomo come un politico strutturato come il Valentino? Lavora alla rovescia. Prima costruisce e poi fa le fondazioni, le fondamenti. Prima, con grande facilità, è il figlio della fortuna, con grande facilità, con intuizione spettacolare e anche proprio capace com'è di servirsi del caso, di sfruttare le circostanze della vita. Con grande facilità prende il potere e poi, e poi con enorme fatica e con sostanziale insuccesso, cerca di dare stabilità a quel potere. Non fonda lo Stato, prima crea lo Stato e dopo che l'ha creato cerca di fondarlo. Ma la instabilità di uno Stato nato grazie alla fortuna e all'intelligenza, diciamo così, tutta tattica di Valentino, del Duca Valentino, uno Stato così nato è uno Stato da cui stabilizzazione è praticamente impossibile. Nemmeno il Valentino è riuscito a dire che era davvero bravo. Machiavelli è ammirato. Adesso lo leggiamo perché sono alcuni dei passaggi più famosi e anche stilisticamente meglio riusciti del Principe. Gli Stati che vengono subito, che crescono improvvisamente come i funghi, come tutte le altre cose della natura, vedete il potente naturalismo rinascimentale. No, lo Stato non è ancora l'artificio tecnico geometrico che sarà da Ops in poi. Lo Stato è un pezzo di natura. Come tutte le cose della natura, che nascono e crescono presto, non possono avere le barbe. Le barbe sono le radici. Qualche cosa che cresce troppo velocemente non ha le radici. E il primo tempo avverso le spegne, il primo soffio di vento le fa cadere. E l'uomo che diventa Principe nuovo, grazie alla fortuna, quelli fondamenti che gli altri hanno fatto avanti, che diventino principi, gli fa poi. Quelle fondazioni che i principi, tra virgolette, normali, fanno prima di diventare principi per preparare il terreno, quelle fondazioni, uno che diventa Principe per fortuna, le fa poi. Il che è piuttosto complicato e disacevole. Cesare Gorgia, chiamato dal vulgo Duca Valentino, acquistò lo Stato con la fortuna del padre e con quella lo perdè. Nonostante che per lui si usassi ogni opera e facessi tutte quelle cose che per uno prudente e virtuoso uomo si doveva fare per mettere le barbe sue in quegli stati che l'arma e la fortuna di altri gli aveva concessi. Questo qui ha fatto fortuna grazie al padre. Non è un raccomandato. È bravissimo. Era prudente e virtuoso. Cioè, prudente vuol dire capace di pensare in avanti, virtuoso vuol dire energico. Per cui era raccomandato ma non era un incapace. Il padre lo aveva aiutato, non padre il papa. Lui aveva aiutato moltissimo, però questo era davvero bravissimo. Ha fatto di tutto per mettere le barbe sue, per mettere le radici nello Stato che per fortuna stava costruendo, ma questo modo di lavorare non funziona. Nonostante fosse bravissimo, a un certo punto gli capita una cosa alla quale non aveva pensato. Non avrebbe potuto pensare. Non è che non aveva pensato perché è stolto. Non aveva potuto pensare perché noi non possiamo pensare che adesso ci casca un meteorite in testa. Ecco. Perché è impossibile statisticamente. A lui è successo invece qualche cosa del genere. Se adunque si considererà tutti i progressi del Duca, si vedrà lui aversi fatti gran fondamenti alla futura potenza. E io non saprei quali precetti vi dare migliori a uno principe nuovo che l'esempio delle azioni sua. E se gli ordini suoi non li profittorano, non fu sua colpa, perché nacque da una straordinaria ed estrema malignità di fortuna. Odio che Matteo Belli qui sta sforzandosi al massimo di pensare ed è anche contraddittorio. qui sta dicendo che è stato sconfitto, è stato distrutto, ma non ha commesso neanche un errore. C'è stata soltanto una estrema malignità di fortuna. La sventura. Alla fine del medesimo capitolo invece gli imputa un autentico errore. L'errore autentico però è un errore dovuto al fatto che dopo che hai parato 20 rigori, il ventunesimo, la ventunesima volta ti fanno gol. C'è quella volta che la ventunesima volta se ti fanno gol ti sei sbagliato il tuo portiere. C'è. Anche se ne hai parato 20 prime. Però l'errore va detto, l'hai fatto. Statisticamente è impossibile che tu portiere, per quanto tu sei più grande il portiere della storia, pari tutti i rigori. È impossibile. Però l'errore l'hai fatto. Qui invece dice non ha mai fatto un errore. Gli è soltanto cascato addosso un meteorito. Ma Matteo Belli sta pensando in qualche cosa che è praticamente impossibile da pensare. C'è il rapporto fra l'ordine e il caso. E lì, in questo passaggio, in queste poche righe ha detto, quest'uomo è da portare come esempio. Perché non ha mai sbagliato. Il caso ha avuto la meglio ma non per colpa dell'uomo. Alla fine del capitolo dirà, era bravissimo, ha parato tutto tranne quell'unico, e basta una volta naturalmente, tranne quell'unico caso. E lì è stato un errore. E ha perso. Del resto, la parte finale del capitolo è, del resto non esiste un uomo che riesca a far fronte a tutti i casi della vita. Riesca a far fronte vittoriosamente. Uno può conoscere un trucco, due trucchi, quattro trucchi, può inventarsene di nuovi. Però se sei sempre costretto a rispondere corpo su colpo, alla fine viene il colpo che non avevi previsto. Non può non venire. Non può non venire. Si può ingannare qualcuno sempre, si possono ingannare molti per un po', ma ingannare tutti sempre. E' impossibile. Certo, tranne che quando si esce da questa, come si esce da questa logica che vuol dire la politica è sempre instabile. Si esce quando invece che affidarsi all'ardimento, all'intelligenza dell'azione del singolo, ci si affida alla scienza. Ma allora non è più Machiavelli. Allora è quel noioso genio di Hobbes. Mentre Machiavelli è un genio non noioso. Cioè Hobbes quello che dice basta. Commettere errori è troppo rischioso. Inventiamo il modo scientifico per impedire la vittoria del caso sull'azione umana. In modo scientifico per cui nessun caso mai sconfiggerà l'uomo. Naturalmente il prezzo pagato è terribile, cioè è la perdita della libertà. Ed è un prezzo al quale Machiavelli non avrebbe mai nemmeno potuto pensare. Ma del resto Hobbes arriva, scrive la sua opera fondamentale, il devietano, 140 anni dopo Machiavelli e ci mette in mezzo 140 anni di guerre civili e di religione che hanno fatto passare agli europei la voglia di combattere contro la fortuna e contro chiunque altro e gli hanno fatto venire soltanto la voglia della pace. Ad ogni costo. E' possibile non prendere mai gol. Certo, basta chiudere la porta con una saracinesca e smettere di giocare a pallone. Si può. Non è più divertente. Sì, certo, non è più divertente. Se però uno pensa che prendere un gol sia troppo doloroso può anche fare quella scelta lì. Lo stato moderno è quello vero, non quello di Machiavelli, quello di Hobbes è sostanzialmente quello. Basta con questa storia del conflitto fa virtù e fortuna. Basta. Costa troppo. Non ci interessa più. La politica ha ben altri obiettivi che quella di produrre azioni gloriose che possano essere ricordate dai cosperi. La politica serve a produrre la pace, la legge e l'ordine. La legge e l'ordine. E così la gente non si fa male. E' un altro mondo. Quelli che dicono a Machiavelli è il padre della politica moderna non sanno quello che dico. Proprio non sanno quello che dico. Machiavelli non è il padre della politica moderna. E' molto di più. E' il padre di un'alternativa alla politica moderna. Un'alternativa che non ha mai preso vita del tutto perché è un po' troppo instabile e costosa da praticare. Ma c'è del Machiavelli in Spinova del quale avete sentito parlare poco anzi. C'è del Machiavelli ovunque si ragioni in termini di conflitto e non di ordine. Però va detto che una cosa è ragionare in termini di conflitto. Una cosa è starci in mezzo. Magari quando al conflitto ci si sta in mezzo l'ordine per mergoglioso che sia, sembra qualche cosa di particolarmente gradevole. Ma torniamo a Machiavelli. Alessandro VI voleva fare grande il duca a suo figliolo. E il duca a suo figliolo ha davanti a sé una situazione, una situazione italiana dove ci sono delle forze amiche e delle forze nemiche del Papa, le forze amiche se le fa amiche, ancora di più, le forze nemiche cerca di spegnerle, come dice sempre Machiavelli. Spegnerle. E qui c'è una lunga pagina che non possiamo leggere, che descrive la politica del duca Valentino nell'indebolire le parti orsine e colonnese in Roma, nel farsi amico la Francia, eccetera, eccetera, eccetera. E c'è l'entusiasmo di Machiavelli per come il duca Valentino cattura e uccide gli orsini, erano una potentissima famiglia romana nemica dei Borgia, cioè di suo padre Gesù, i quali orsini per semplicità loro, perché erano stupidi, si lasciano imbrogliare dal duca Valentino. Poi c'è la pagina famosissima in cui si mostra come il duca Valentino man mano che acquistava pezzi di territorio, soprattutto la Romagna, conservava l'ordine e cercava il consenso, che non è il consenso del principe civile. Il consenso in Romagna, il duca Valentino lo ottiene dando in appalto a un uomo crudele ed espedito, a Remirro de Orco, un uomo ferocissimo e sbrigativo, l'ordine pubblico. Questo Remirro de Orco, un ministro del Valentino, produce ordine pubblico in modi crudelissimi attirandosi odio di tutta la Romagna, però intanto facendo ordine, al che improvvisamente il duca Valentino prende Remirro de Orco, questa è una frase famosa, lo fece a Cesena una mattina mettere in due pezzi sulla piazza, con un pezzo di legno e uno coltello sanguinoso accanto. Una bella mattina, dopo che Remirro de Orco aveva fatto quello che doveva fare, tenere buoni sti Romagnoli con le cattive, rendendosi odiosissimo ai Romagnoli, però intanto reprimendoli, il duca Valentino prende Remirro de Orco e lo fa mettere in due pezzi, lo squarta in due, sulla pubblica piazza di Cesena. Questa è sono soddisfatti perché Remirro de Orco era stato un grandissimo figlio di Buonadonna e li aveva tormentati, per cui sono contentissimi di vederlo aperto in due con una carcassa di bue con una mannaia, ma anche l'ha tagliato a metà, sono contentissimi. E al tempo stesso sono atterriti perché dicono, uè, chi è questo duca Valentino capace di fare una cosa del genere per cui è stato stupidi che vuol dire stupefatti. Questo a Machiavelli piace, la famosissima pagina di Remirro de Orco messo in due pezzi in sua piazza. Però non è il consenso del principe civile, il principe civile si muove in un altro modo. Continuamente, vedete, continuamente il Valentino prende potere e dopo che l'ha preso cerca di stabilizzarlo. Questo è il suo meccanismo. Prima prende, grazie alla fortuna iniziale che ha avuto, cioè il figlio del Papa, prima prende e poi cerca di stabilizzare. Ecco. Però la sua logica è sempre e solo una logica di emergenza. Di emergenza, cioè è sempre senza tempo. Non ha mai tempo per far niente. rincorre affannosamente. Certo che prova anche a mettere le fondamenta per il futuro, ma quando tu hai un enorme potere senza fondamenta, anche se provi a metterle, il caso arriverà sempre a impedirti di mettere delle fondamenta tanto stabili da rendere il tuo potere davvero resistente al caso. A un certo punto al Valentino muore il padre, muore il Papa, Alessandro VI Borcia. A quel punto. Allora, è chiaro che il Valentino, che era un uomo prudente e virtuoso, ci aveva pensato che cosa farò quando morirà mio padre? È chiaro. E allora pensa di assicurarsi in quattro modi, di trovare sicurezza in quattro modi. Spegnere tutti i sangui di quelli signori che aveva spogliati. Cioè, ammazzare tutti i nobili ai quali aveva portato via il potere e i beni, per evitare che qualcuno di questi nobili venisse fatto Papa e gliela facesse pagare. Guadagnarsi tutti i nobili di Roma, portare dalla propria parte con regali tutti i nobili di Roma. Terzo, ridurre il collegio più suo che poteva. Cioè, il collegio dei cardinali, fassero comperarsi quanti più cardinali potere, quelli che regolano il Papa. Quarto, diventare tanto potente lui, che anche se gli diventava Papa un suo nemico, lui, Valentino, potesse esistere. Di queste quattro cose, alla morte di Alessandro VI, Borgia, suo padre, tre ne aveva condotte. Cioè, c'era riuscita. La quarta, cioè acquistare tanto potere da poter resistere anche ad un Papa ostile, la quarta era legato a metà. E allora? Ci stava arrivando, ma a quel punto è arrivato il colpo di maligna, sfortuna, di maligna, fortuna, cioè di sfortuna. Cioè, Papa muore. In quel momento si ammala terribilmente anche il Valentino. E non ci aveva pensato questo. Che suo padre morisse e ci era arrivato a capire che poteva capitare. Ma che proprio, mentre suo padre moriva, mentre in Italia c'erano due eserciti potentissimi. L'esercito di Francia che stava a guardare quel che capitava nel collegio dei cardinali per forzare i cardinali a far diventare Papa un cardinale francese. E in Spagna, no, scusate, e a Napoli, a Gaeta, c'era l'esercito spagnolo che assediava Gaeta perché avevano appena buttato fuori gli angiolini. Questo. Due eserciti, il Papa morto e lui, malato, non ce l'ha, non l'aveva messo in conto. E allora, l'errore fa l'accordo con San Pietro Advincula, il cardinale giuglio dell'errore, titolare della chiesa romana di San Pietro Advincula. Dice, va bene, ti faccio, ti do i voti dei cardinali che controllo io, tu diventi Papa e dopo sei io alleato. San Pietro Advincula, cioè della rovere, era di una famiglia nelica dei Borgia. E chi crede, dice Machiavelli, che nei personaggi grandi e i benefici nuovi, faccio dimenticare le ignudi e vecchie, si inganna. Errò dunque il Duca in questa elezione e fu cagione dell'ultima ruina sua. Valentino ha commesso un errore, ha creduto che, facendo un favore oggi, a un uomo molto potente, il cardinale dell'errore, al quale in passato aveva fatto molti torti, che quel favore che gli faceva oggi, gli facesse dimenticare al cardinale i torti ricevuti in passato. Cioè queste sono cose che fanno i poveretti. Tu li prendi a calci tutta la vita, dopo gli gli dai un beneficio e lui ti lecca pure la mano. Ma se tu prendi a calci tutta la vita un uomo grande e potente e poi alla fine gli dai un beneficio e dici beh adesso siamo allerti. No, quello si serve del beneficio che tu gli hai dato per farti fuori. E questo è stato l'errore di calcolo e fu cagione dell'ultima ruina sua. Perché a quel punto il Papa Giulio II della Rovere attacca il Valentino, lo fa prigioniero, il Valentino deve fuggire, va in Spagna e muore in Spagna. E Valentino, se è sbagliato, ha commesso un errore. Ha commesso il errore perché ha dovuto agire in una situazione di necessità. Perché lui non faceva altro che agire in situazione di necessità. Era uno spericolato che, come dire, era costretto a andare in bicicletta pedalando sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte e a un certo punto se è così prima o poi il sasso lo trovi che ti fa cadere. Non è così che si fa politica. Nonostante, ecco, le doti umane e politiche del Valentino fossero eccezionali. Perché? Sentiamo questo passaggio. Raccolte io adunque tutte le azioni del Duca, non saprei riprenderlo. Vedete come sta oscillando? Alla fine del capitolo dice, errò dunque. Cioè, commesso un errore dunque che deve essere, è bene di essere ripreso, di essere condannato. Ma venti ride prima invece dice, non saprei riprenderlo. Anzi, mi pare, come ho fatto, di proporlo imitabile, di proporlo come imitabile per tutti coloro che, per fortuna e con larme d'altri, sono ascesi all'imperio. perché avendo lui l'animo grande e l'intenzione alta, non si poteva governare altrimenti e solo si oppose agli suoi disegni la brevità della vita di Alessandro e la malattia sua. Chi è adunque giudica necessario del suo principato nuovo, assicurarsi degli amici, guadagnarsi degli amici, vincere o per forza o per fraude, farsi amare e temere da pocumi, seguire e reverire dai soldati, spegnere quelli che ti possono o debbono offendere, innovare con nuovi modi gli ordini antichi, essere severo e grato, magnanimo e liberale, spegnere la minizia infedele, creare della nuova, mantenere le amicizie dei re dei principi in modo che ti abbino o a beneficare con grazia o a offendere con rispetto non può trovare più freschi esempi che le azioni di costuro. E' un panegirico grandioso. Queste azioni che sono quelle che deve fare un principe nuovo che acquista il principato per le armi altrui, in questo caso di suo padre, e per fortuna, queste azioni lui le faceva meravigliosamente. E allora, giorni meno, solamente si può accusarlo della creazione di Giulio Pontefice nella quale lui ebbe male a elezione. L'unico errore che ha fatto è stato consentire che venisse fatto Papa Giulio II e in questa faccenda egli fece una cattiva scelta. E poi dice esattamente quello che avevo detto, perché Giulio II della rovere era di una famiglia che era stata duramente colpita in passato dai Borgio e non c'è da sperare che quando un grande riceve un beneficio dopo molti anni si dimentichi i danni passati. Allora, è bellissima questa pagina di Machiavelli, ma sotto il profilo teorico che cosa ci dice? Insomma, in politica il concetto di errore ha senso. Cioè, se ha senso l'errore, allora vuol dire che c'è un modo giusto, corretto, logico, efficace di fare politica. Basta impararlo e tutto funziona. L'errore è lo scostamento rispetto alla verità. Giulio II è un errore per Borgio. Il Valentino è stato sconfitto dall'estrena malignità della fortuna o da un proprio errore? Machiavelli non risponde. In questo capito. Il che vuol dire? la politica può essere oggetto di scienza, se è oggetto di scienza vuol dire che è conoscibile e come la fisica è oggetto di scienza, così va il politico oggetto di scienza. Machiavelli è un politologo. Esiste un logos della politica? Se c'è, esiste il concetto di errore. Non esiste il modo. Tu sai che devi calcolare l'accelerazione di gravità. Se ti sbagli, commetti un errore. sconfitto. Questa è la domanda chiave. La fortuna può essere in linea di principio sconfitta, il mondo può essere umanizzato, la politica può essere l'azione che trasforma il mondo a misura d'uomo. Punto interrogativo. Questa è la domanda. Ogni razionalista, ogni illuminista, anche ogni marxista, risponde sì. Infatti il razionalismo, l'illuminismo e il marxismo consistono per l'appunto della eliminazione della fortuna della politica. La politica si fonda sulla necessità storica o sul fatto che la ragione umana, ben adoperata, senza errori, produce ordine. Ma sul serio produce ordine? Cioè, tiene fuori il caso. Chi è? Che torno a dire ancora l'idea che noi abbiamo della politica. Noi tutte le volte che c'è un problema diciamo, e dov'è il governo? No, c'è il terremoto, colpa del governo, c'è un maremoto, colpa del governo. Praticamente anche se cade un meteorito è qui, colpa del governo, che non ha pensato che poteva cadere un meteorito. Perché noi moderni ragioniamo così. Noi abbiamo la pretesa che il nostro sapere pratico, cioè la nostra tecnica, ci risolva tutto. Ogni caso. Dall'assicurazione sulla vita, all'assicurazione contro le malattie, all'assicurazione contro le invasioni barbariche, all'assicurazione contro tutto. La politica per noi è sicurezza. E dunque ci sono delle scienze che spiegano come si ottiene la sicurezza. Allora, Machiarelli è un politologo mancato, cioè uno che pensava che la politica è passibile di scienza, cioè di conoscenza razionale certa, sulla base della logica verità e errore. E poi, essendo ancora arretrata, la mente umana non è diventato un politologo formalizzato come, che so io, Holmond. È un politologo del Cinquecento. E allora ha senso per lui dire errore Duca Valentino, cioè non ha rispettato la tal legge della politica. Oppure Machiarelli è uno che pensa che la politica non possa mai, in nessun caso, essere oggetto di scienza, nel senso di conoscenza razionale certa. Non perché la politica non meriti tutto il nostro impegno intellettuale, ma perché, nonostante lo meriti, è fatta di una materia che per che sfugge per definizione al cancro, cioè consiste nel confrontarsi con la incalcolabilità del mondo. La incalcolabilità del mondo è una brutta cosa. Pensata fino in fondo fa paura. il mondo. Cioè il mondo non è normabile, ma è semplicemente un insieme di eccezioni scarsamente controllate. Anomalia o norma? È il segno della politica. Anomalia o norma? e il principe inteso come libro passa attraverso l'analisi, dopo aver iniziato con l'analisi delle varie forme di principato. E ripeto, quella su cui punta Machiarelli non è il principato nuovo acquisito con la fortuna e con le arde altrui, come quello di Valentini, ma è il principato nuovo civile costruito dall'alleanza tra il principe e il popolo. Dopo ciò ci sono i famosi capitoli centrali sulle armi, perché l'alleanza tra il principe e il popolo vuol dire che il principe dà le armi al popolo perché così insieme difendono il principato. Poi c'è una lunga serie di capitoli sui consigli che lui Machiarelli dà al principe e gli spiega guarda che far politica non è come curare la salute della propria anima, anzi facendo politica la salute della tua anima va a pezzi. Perché per far politica devi entrare nel male necessitato. In caso di necessità devi entrare nel male. E se scappi e se hai paura di prendere l'irro di Aorco e metterlo in due pezzi sulla piazza di Cesena e se dici beh sono cose che non vanno mica tanto bene, non fare politica perché sennò ci finirai tu così. Poi alla fine prova a tirare le somme e dice beh che cosa ho detto? Che cosa ho detto? Tirando le somme. Tirando le somme e siamo al ventiquattresimo capitolo, dice intanto abbiamo capito perché i principi italiani hanno perduto il potere, perché sono dei sommari integrali. Non hanno nemmeno lontanamente idea di che cosa seria sia la politica. Questo passaggio del ventiquattresimo capitolo è in forma molto concentrata. Poi verrà sviluppato nella parte finale del settimo libro dell'arte della guerra, un'altra opera di Machiavelli, che è una meraviglia assoluta. Qui dice semplicemente i nostri principi, che erano stati molti anni nel principato, per averlo di poi perso non accusino la fortuna, ma la ignavia loro, perché non avendo mai nei tempi quieti pensato che possono mutarsi, il che è comune d'effetto degli uomini, non fare conto né della bonaccia della tempesta, quando poi vengono i tempi avversi, pensorono a fuggirsi e non a difendersi. Hanno perso il potere, in Italia comandano francesi e spagnoli, non stiano a parlare di fortuna avversa, sono stati ignavi, cioè non hanno messo tutto lo sforzo necessario nel far politica. Durante i tempi di bonaccia non hanno pensato che sarebbe venuta la tempesta. Tra l'altro questa immagine della tempesta è presente anche in Ops, guarda caso. E poi nel venticinquesimo finalmente dice, beh tirando le somme, che cosa ho detto? Ho dato dei consigli al principe perché mantenga il principato, anzi se lo acquisti nuovo e dopo che se lo hai acquistato lo mantenga. E ho trovato una nuova scelta politica? Guardate nuova per lui voleva dire non aristotelica, non scolastica, la scienza politica c'era già, era il pensiero scolastico dove esiste il concetto di verità e il concetto di errore anche in politica. Verità ad esempio è la legge naturale, per cui è presto detto una politica che contraddica la legge naturale che è sbagliata. Ho fatto una nuova scienza politica? No. Ho trovato la incalcolabilità della politica. Ma questo non vuol dire che la politica consiste nello stare fermi seduti e aspettare che ti capiti addosso tutto quello che capita. No. Ecco. Lo che vuol dire? Vuol dire che questo mondo è governato dalla fortuna e da Dio. Vuol dire la fortuna e la provvidenza divina di cui la fortuna è ministra ed esecutrice. Questa è la tesi scolastica. Tommaso Dante. La fortuna è semplicemente il fatto che le cose del mondo sublunare sono corrotte e dunque sono imprecise. Però tutto ciò è voluto da Dio, per cui non c'è problema. E non solo, ma esiste una norma rispetto alla quale orientare le cose del mondo, benché imprecise. No. Ce lo so che c'è un bucchio di gente che pensa che le cose del mondo sono governate dalla fortuna e da Dio. E poi dice che gli uomini con la prudenza loro non possono correggerle. Questo è sbagliato. Cioè qui mette insieme due posizioni. Mette insieme la posizione tomistica aristotelica, cioè la fortuna è una forma bassa di essere. Il caso è una forma bassa di essere. E la posizione invece stocco e picurea, per cui la fortuna è invincibile e il sapiente, il saggio, vi resiste nella propria interiorità. Ma certamente tanto l'una quanto l'altra posizione non gli garbano. Machiavelli è portatore di una terza posizione. Nel rapporto fra il soggetto e la fortuna, può essere descritti in termini metafisici, e allora è Aristotele e Tomismo. Poi essere descritti in termini morali, allora è il sapiente resista ai colpi di fortuna, e può essere descritti nei termini di Machiavelli che definiremo della azione virtuosa in vista della gloria. Cosa vuol dire? Vuol dire che la fortuna esiste, cioè il mondo non è fatto per l'uomo. Non è razionale, né chiaramente razionalizzabile. Però l'uomo può tentare di porre argini. Questa è la grande metafora. La fortuna è un fiume e i fiumi. I fiumi possono diventare terribili. C'è la piena che tutto travolge. La piena tutto travolge e spazza via tutto se qualcuno non ha preparato gli argini. Se invece prima hai preparato gli argini, allora per un bel po' di tempo riuscirai a tenere il fiume dentro il suo alveo. Per cui la fortuna da una parte, il libero arbitrio umano inteso non come libero arbitrio conoscitivo, ma libero arbitrio come libera energia di affione. Dall'altra, questi sono i due protagonisti. Non è vero che alla fortuna si può porre soltanto il sapere che ti dimostra che quello che ti è capitato per caso non ti è capitato per caso. Oppure che alla fortuna si può porre soltanto la fortezza interiore. Capiti quel che vuole, ma io non mi faccio smuovere nella mia interiorità. No, c'è il terzo modo che è il modo attivo e in modo attivo c'è la fortuna e noi mettiamo gli argini. Calma, non è finita. Non è finita perché, beh, questi argini durano per sempre. Hai trovato l'argine perfetto? Hai trovato l'argine che non cederà mai al conto della piena e lì di nuovo Machiarelli barcolla e sostanzialmente dice, dice, se c'è il principe molto prudente, capace, questo è il punto troppo forte, capace di andare d'accordo con i tempi, allora questo ha trovato l'argine perfetto. Ma che con cosa vuol dire andare d'accordo con i tempi? Vuol dire che tutte le cose che tu fai si accordano all'epoca in cui le fai. E se l'epoca cambia, allora non si trova un uomo che possa essere capace di accordarsi a tutte le variazioni dei tempi. Giolitti aveva governato l'Italia prima della prima guerra mondiale, belissimo, ritrova dopo la prima guerra mondiale per fermare Mussolini, gli è il travolto. Era sempre lui, non era diventato stupido. I tempi erano cambiati. E per quanto bravo sia, un uomo politico non ha le risposte adatte per tutti i tempi. Gli uomini della prima repubblica italiana non sono stati capaci di governare la crisi della prima repubblica. Non sono stati capaci di adattarsi a mutare dei tempi. Gorbaciov voleva fare il comunismo dal rotto umano quando ormai non c'era più posto al mondo per il comunismo. Bravo che fosse, ed era bravo, non è stato capace di adeguarsi ai tempi. E allora chi comanda tra l'uomo e la fortuna, tirando tutte le somme e comanda la fortuna. Che non vuol dire allora non governiamo, lasciamo che le cose vadano come devono andare. No, no, vuol dire impegnarsi a fare quanti più argini puoi, più robusti, quante più fondazioni puoi, a mettere quante più barbe puoi, sapendo che basta che cambino i tempi e tutto ciò va a gambe all'aria. E allora si deve essere rispettivo o impetuoso. Questo è il chiudo. Chiude il venticinquesimo capitolo che è il penultimo, che è quello con cui si chiude la teoria del principe. Il venticinquesimo e ultimo è la chiusura politica. Questa è la chiusura teorica. Chiude quel capitolo con l'immagine della fortuna come di una donna, come erano le immagini della fortuna. E allora lui dice che le donne vanno dotute, sono ribelli e vanno domate e che in generale le donne preferiscono essere corteggiate da uomini impetuosi che da uomini timidi. Loro dice comportati con la fortuna come si si comporta con le donne, battendole ed essendo impetuosi. Questo è semplice. Fallo. Avrai nel breve e medio periodo successo. Nel lungo periodo vince la fortuna, cioè vince la complessità del mondo e il cambiamento dei tempi. Per venirne fuori da questa grandiosa immagine di incompiuto. Ecco, voi dovete pensare alla politica di Machiavelli come a un incompiuto di Calangiovesco, ai prigioni, alla pietà rondanini, come volete. Cioè la massima espressione della potenza plastica del rinascimento italiano che proprio perché è massimamente consapevole di se stessa, rifiuta la forma finita. Machiavelli della politica da questa immagine. Potenza plastica ed espressiva che non ha una configurazione finita, che non vuol dire che Michelangelo ha lasciato com'era il blocco di marmo, no, lo ha scolpito. Ma per un certo punto ha pensato non riuscirò mai a dare la raffigurazione di tutta la possibilità di umanità che c'è nell'umanità. È meglio lasciarlo incompiuto. E lui dice lo stesso. La scommessa di Machiavelli la vince, ma ripeto, perdendo tutto, la vince l'opera, che dice facile, basta distruggere il tempo. Se il tempo, il cambiamento del tempo, quello che danneggia e rovina l'uomo politico e la sua costruzione, facilissimo, basta eliminare il tempo. Che vuol dire tenere il tempo sotto il totale controllo dell'umanità. Che vuol dire avvelarlo, fare la rivoluzione e ricominciare dal campo, inaugurando epoca della fattibilità della politica, della fattibilità dell'ordine, della fattibilità del tempo, della fattibilità dell'uomo. Machiavelli qui un pensiero così non l'ha mai neanche lontanamente concepito e ne avrebbe avuto orrore. La politica è agone, è conflitto, non è tecnica. La politica ha da essere bella prima che sicura. E se la vuoi bella devi correre i tuoi rischi. Vi ringrazio per l'attenzione.